ben trovati a tutti su on air interviste storie radio canale italia io sono giuseppe massimilla e anche oggi vi accompagnerò in una nuova intervista oggi ci troviamo in lombardia a conoscere una persona che ci parlerà di una cosa molto molto particolare che riguarda un settore ancora in crescita anzi molto molto innovativo molto nuovo ecco lo andiamo subito a salutare ci spiegherà cosa fa lui è stefano ferrari della cargo bike system ciao stefano ciao buongiorno a tutti grazie mille per essere qui con noi per dedicarci un po del tuo tempo stefano allora io parte partirò proprio da un bel hashtag hashtag cargo bike system crema ecco partiamo da questo e parlaci un po di quello che è il diciamo il motore di cargo bike system quello che fate quando nasce insomma parlaci un po presentaci cargo bike system ok allora cargo bike system è una società piccola molto piccola artigianale che produce su ordinazione e degli dei velocipedi i tricicli a pedali specifici per il lavoro quindi sono dei tricicli studiati per trasportare dei pesi molto elevati fino anche a 300 kg alcuni modelli che servono per dare diciamo una mobilità sostenibile nelle città e vengono utilizzati spesso sia per trasporto di delivery a domicilio piuttosto che alcune volte allestiti come mezzi per fare lo street food per esempio in zone dove non si può entrare con i mezzi a motore e quindi sono allora io vorrei solo invitare le persone andare a vedere sul vostro profilo facebook perché è veramente spettacolare quello che si può trovare io qui come copertina vedo che c'è un una monta una bici molto molto lunga con un servizio per hot dog e un ombrello quindi ecco andate a visitare perché sono veramente delle cose spettacolari è veramente ingegnoso quello che si può fare veramente con pedali e ruote ecco ma quando è nata Cargo Bike e soprattutto da quale idea? Allora Cargo Bike è nata nel 2010 l'idea è venuta dopo un viaggio lungo che ho fatto in Messico e avevo visto che in Messico le Cargo Bike e questi tricicli erano il mezzo comune di trasporto delle persone anche povere se vogliamo e in Italia io li avevo conosciuti solo negli anni 50 quando ero ragazzino e quindi ho detto ma forse quest'idea può funzionare anche in Italia visto che mancano ormai erano spariti e così abbiamo iniziato a importare dal Messico questi tricicli benissimo noi per questa intervista abbiamo concluso amici di On Air interviste storie radio canale Italia ovviamente noi non ci fermiamo qui torneremo prestissimo con nuove interviste e nuove storie da raccontarvi quindi noi non vi abbandoniamo però voi non ci abbandonate Grazie a tutti